Ma cosa vi viene in mente? Che cosa non viene in mente? Perché a voi le cose non vengono in mente. Il giorno buono per voi sarà quello in cui le cose vi vengono in mente. Il lessico in uso nel gruppo psicoanalitico da un secolo circa è piuttosto noto. Una delle parole di questo lessico, ve ne sono molte, è note, è note dappertutto, è la parola rimozione. Io meno la uso e più sono contento. Per una volta faccio eccezioni, c'è la parola rimozione, ferdringung, tedesco, freddiano. Ci sono stati dibattiti a non finire, filosofi della scienza che discutevano, ma sta in piedi o non sta in piedi questo concetto. Si capisce, soprattutto non si capisce, ma non si capisce nulla di ciò che Freud potesse voler dire parlando dell'emozione. Se volete un paragone da senso comune, nel senso che quasi tutta l'umanità potrebbe farlo, questo paragone, con Rossello O'Hara, nel celeberrimo film, anche in Cina e in Giappone, via col vento. Cos'è la rimozione? Non c'è bisogno di leggere Freud, basta avere visto via col vento. Salvo. Accorgersi che quando Rossello O'Hara ripete alcune volte questa stessa frase, che ora dico, salvo accorgersi che non sta dicendo una frase qualsiasi. Cosa dice più volte durante il film Rossello O'Hara? Non ci voglio pensare oggi, ci penserò domani. Questa è la rimozione. Certo, Rossello O'Hara davvero sta praticando la rimozione, cioè lo spostamento, come si rimuove l'auto da un punto a un altro, con la differenza che l'auto è spostata, rimossa nello spazio. Rossello sposta nel tempo, a domani, poi è arrivato domani, domani sarà oggi e sposterà nel giorno di domani. Quindi la sua rimozione, non ci voglio pensare, perché poi siamo sempre lì, pensare o non volerci pensare, possiamo anche dire sapere o non volerne sapere. Rossello O'Hara andrà avanti all'infinito a rimandare a domani, peraltro confortando l'idea kantiana di tempo, serie di punti lineare, per cui ogni domani sarà soltanto un punto successivo, ossia una banalità. Rossello vive nella banalità, la rimozione e il vivere nella banalità sono la medesima cosa. Grazie a tutti.